Ingredienti Dosi per 4 persone 400 g di maccheroni 600 g di punte di asparagi 1 spicchio d'aglio 30 g di burro Olio Vino bianco Brodo Panna Parmigiano grattugiato e sale Preparazione Far dorare l'aglio, il burro e olio Unire gli asparagi e cuocere per circa 30 minuti in acqua salata Passare gli asparagi al frullatore Bagnare con il vino e il brodo e cuocere per circa 10 minuti Aggiungere la panna e salare Cuocere la pasta al dente in abbondante acqua salata e condirla con la salsa preparata Cospargere di parmigiano grattugiato e servire Il piatto è pronto! Buon appetito!